eccoci qua allora altro match coppia della winner final si grand final coden sinistra rushing monkey è figa dato che io ho perso un cretino prima però secondo rock eccolo qua ragazzi con film pressione di tagliarmi e mara shimaki non ci sta inizia la sua gioco da vicino ha sbagliato vediamo string un po' accusata presa attenzione cambia due bar sbaglia no errore di tutti e due sbagliano le punizioni calcio forte il signorone come si dice a torino boh la scena sbaglia la punizione doveva fare show fa di ultra quando si studiano leggermente in vantaggio sagat provano zone di mantenere lontano cammi ma ecco counteri non it confirma buona buona intuizione della scena seconda round attenzione una barra ciascuno fokus attack cammi string inizia counteri non it confirma sagat tenta doppia scimmata ed entra cammi evita il cross up un po' di fuzzis che ha uno strike da vicino ma sagat pugno medio pugno forte ammo cammi è totalmente carica super ultra prova ora la dei beta ancora no un po' di fuzzis che tolgo la metà e ha sgravato sto personaggio ragazzi titolo iniziamo adesso gioco a terra tutto il gioco di cammi e quindi vediamo dopo su rialzo attenzione attenzione non ci sta ancora errore di rush in wank ma sagat le due barre proverà no presa sagat deve tenere lontano cammi in ogni caso da vicino a cammi cerca di avvicinarsi vediamo tenterano studiano cammi vantaggio vita manca l'anti air non it confirma la combo sagat fuzzis di cammi ancora no bene presa tecciata momento cruciale sfida tesissima vediamo sagat prova ci pare un pochino di vita tutti e due scarichi di barata ne cammica uno entra forse no sbaglia diamo taggermin forse no ah codon non parabasso prima giudicata della scimmonte abbiamo in seconda fai son prova il gimmicks ma non entra a focus breaking sagat prova un po di zone dei buoni fuzzi danno in serio svantaggio vita vediamo come potrà recuperare senza anche una barra ma no sagat con degli ottimi poch tiene lontano cammi e finalizza con un tiger hopper cap anti air cammi schiva i cross up di sagat con il dash punizione a sagat sbaglia completamente o dell'altro insieme entra la combo vediamo no troppo goloso forse codon in questa situazione a bellissimo questo il con firma buona stringa con titolo ottima pressione da parte di rush in monkey voloso ma dice codon che ha proprio sbagliato vera con il con firma entra vediamo pressione a terra a indovina la scelta cara shot entra a focus atta sbaglia la combo get to bait da parte di sagat string counter it di cammi vediamo cammi svantaggio vita entra il doppio calcio ma entra il chip errori errori su errori oggi stava l'ultra stava l'ultra sbaglia l'ultra eh fino a 1 è stato un'l'ultra stava l'ultra stava l'ultra stava l'ultra stava l'ultra stava